E-mail, il 74% dei navigatori italiani usa ancora la posta elettronica e secondo me continuerà a usarla, quindi voi potete entrare in contatto con loro attraverso una newsletter. Nell'ambito del marketing digitale si usa un'altra espressione in inglese, su cui ho scritto anche qua casualmente un libro, che si chiama Inbound Marketing. Vi spiego in due parole cos'è l'inbound marketing. Noi siamo abituati a essere sempre più interrotti, guardiamo un film in televisione e ci sono le interruzioni pubblicitarie. Sfogliamo una rivista, prima di arrivare alla pagina dove ci sono scritti quali sono gli articoli della rivista, abbiamo dieci pagine di pubblicità. Squilla il telefono fisso, nove volte su dieci, è qualcuno che ci vuole vendere qualcosa. Abbiamo una serie di interruzioni che ci rompono le scatole e che cerchiamo di evitare in tutti i modi. C'è chi si abbona a Sky e guarda il film quando vuole lui, qualcuno invece più intelligentemente lo viene a vedere al cinema. C'è chi usa per esempio uno strumento per bloccare i banner pubblicitari quando naviga, perché si è stufato di vedere tante distrazioni e pochi articoli. Quindi le persone hanno cominciato a trovare degli strumenti per rifiutare la pubblicità e quindi la pubblicità che interrompe è sempre meno efficace. Cosa funziona invece? Funzionano invece, soprattutto su internet, funzionano i contenuti interessanti, coinvolgenti, utili per l'utente, per cui voi avete un bisogno, andate su Google o chiedete a un vostro amico, lui vi segnala, trovate un link o un amico vi segnala un link, andate su quella pagina, quella pagina probabilmente contiene un articolo che vi dà delle informazioni utili ed è scritto da qualcuno competente che voi scoprite in quel momento e magari vende anche un prodotto o offre un servizio, voi vi ricordate che il vostro bisogno in quel momento è stato soddisfatto da qualcuno competente, quando avrete un'altra volta un bisogno o avrete bisogno di un servizio andrete da quello di cui avete già avuto fiducia una volta o che vi ha già dato qualcosa gratis, che vi ha permesso di capire delle cose, informarvi meglio, eccetera. Quindi in questo senso i contenuti che attraggono diventano il modo per fare business su internet. Cioè io attraggo l'interesse delle persone offrendo dei contenuti che corrispondono a delle calamite, in cui io attraggo il mio pubblico. E quando scrivo un articolo non gli voglio vendere niente, però alla fine di quell'articolo posso proporgli qualcosa in più e questo qualcosa in più glielo do se quell'utente mi manifesta il suo interesse, vero, per quello che faccio. Questo percorso corrisponde a quello che molti di voi fanno già, ovvero offrire un servizio in cui l'utente non deve andare lui a cercare le informazioni che vi riguardano, ma è interessato e sa che voi offrite queste informazioni su internet e decide di darvi la sua email per far sì che senza fatica lui riceva le informazioni che gli interessano, che voi gli potete dare. Quindi nel momento in cui voi avete l'email dell'utente, avete un grande vantaggio, cioè di poter comunicare quando lui vi ha chiesto il permesso, nel suo ambiente personale, parlandoci direttamente. E quindi in quel caso, certo, poi c'è la problematica di dire ma l'utente aprirà o non aprirà l'email, clicca o non clicca, questo viene dopo. Però siete entrati in un suo spazio personale, quindi non dovete sperare che l'algoritmo di Facebook faccia sì che la programmazione di quella settimana sia visibile sulla home page di quel vostro fan, ma voi comunicate direttamente con lui. Quindi in questo senso una newsletter è importante per fidelizzare. Cioè voi avete i tesserati, quello diventa il primo pubblico al quale proporre una iniziativa di questo genere. E se la proponete già, il passaggio successivo è di rafforzare questo legame e quindi far sì che io ho fatto la tessera, vi ho dato la mia email e quindi significa che vengo ogni tanto al cinema, mi piace e mi interessa sapere che cosa c'è, però il vostro obiettivo successivo deve essere quello di far sì che quell'utente venga più spesso o parli di voi con i suoi amici e porti anche i suoi amici. Quindi questo è uno spazio che si presta bene al concetto di club esclusivo. Cioè voi lo potete fare chiaramente anche su altri canali, però dovreste organizzare le vostre attività promozionali in maniera differenziata. Voi non potete fare le stesse promozioni a tutti, perché questo fa sì che io non abbia nessun incentivo a essere sempre più fidelizzato e avere un rapporto sempre più stretto con voi. Perché se io so che voi fate i manifesti e chi passa per la strada, che sia uno che viene al cinema o non viene al cinema, il giorno dell'apertura dell'arena viene al cinema gratis, ok, l'email non ve la do perché la promozione ce l'ho già. Questo non significa che quella promozione sia sbagliata, significa che quella promozione è fatta per un certo obiettivo. Poi ce ne devono essere altre che si rivolgono invece al vostro pubblico più fedele e che incentivano chi non è fedele a diventarlo. E quindi ricevere un'email ogni settimana in cui io so da quell'email qual è la promozione che vale per me, e se non sono abbonato alla newsletter non ce l'ho, è un incentivo a iscriversi. Poi questo non significa che tutte le settimane ci deve essere una promozione speciale solo per la newsletter, ma se io so che una volta ogni X mesi quelli che ricevono la newsletter hanno una promozione fatta apposta per loro, allora io mi scrivo perché poi sono il primo a saperlo e quindi magari se è una cosa limitata posso partecipare e gli altri no. Poi vi do degli spunti, sono da tarare, da calare sulla vostra realtà, però questo è un ragionamento che dovete cominciare a fare. Uno strumento che il cinema gabbiano usa e che io amo molto è MailChimp. Quando parlo di newsletter non parlo di voi che avete raccolto delle email e quindi dalla vostra email, diciamo dal vostro programma di posta elettronica, mandate un'email a tutti come se mandaste un'email qualsiasi. No, dovete usare una piattaforma apposita per l'email marketing. Ce ne sono anche altre, MailApp, ContactLab, MailContact. MailChimp purtroppo non è in italiano, è in inglese, però, ve lo possono testimoniare i vostri amici di Senigallia, è abbastanza facile da usare e soprattutto voi potete avere fino a 2000 indirizzi di vostri iscritti e potete mandare fino a 12.000 email in tutto al mese gratis. Ed essendo un servizio molto professionale che poi vi dà la possibilità agli utenti di iscriversi dal vostro sito, cancellarsi automaticamente se lo vogliono e avete tutte le statistiche poi su chi l'ha aperta, chi non l'ha aperta, chi ha cliccato e questo vi permette poi, se crescete su questo strumento, fare delle campagne separate. Quindi voi magari vedete che un terzo dei vostri iscritti clicca sempre e approfondisce tutto quello che gli mandate. A quel terzo gli potete mandare una campagna specifica in cui gli iscrivete magari invece di una volta alla settimana due, perché quelli probabilmente sono quelli che vengono al cinema più spesso e quindi rispondono di più. Se mandate un'email dal vostro programma di posta, queste informazioni non ce le avete. Terzo pilastro, social media.